ci siamo let's go quindi bisogna farsi fuori ma devo sgommare no ma devi andare dritto e ti si forma la scia dietro più che altro ovviamente non puoi sbattere nella tua stessa scia si è tipo ciao stef non ci credo ma dai in mezzo alla mappa ci sono dei poteri se li prendi ti danno delle abilità speciali quindi faccio attenzione ecco qua non ci credo no mio dio in basso destra ti vedi le vite mio dio mentre toglievo la radio mi ho dovuto fare una curva alla fine sono finiti va bene ci sono nella mappa più figa che abbia mai visto fino adesso è veramente incredibile ma adesso ti passerà appena ti raggiungo gg eccolo ti taglio la strada non ci credo si double kill che tattica era non lo so era la tattica del sbattere contro il muro per disorientare gli avversari non la usi mai allora adesso faccio un potere che non vi aspettate dai come è possibile raga ole che guerra qualcuno ha attivato qualche cosa che ci fa andare tutti i leggi non ci credo ma come hai fatto a saltare e ho scherzato sul sul palazzo per poi saltare però c'è pure il potere no questa morte è stato incredibile e siete viola e rosa è un po problematico per me siamo tipo tipo i power ranger va bene dai ci ho provato e niente bene ci ho provato prezzo al tentativo steve mamma mia non è vero ho usato l'acceleratore è un po slitterio questo gioco si esatto fa impattire uguale poi non è vero ti avevo quasi preso si è scappato giù no non ti ho portato giù no raga no non è vero non è vero dai non ci credo ma non ci credo mentre io guardavo fare mi ha ucciso dai non è vero no lo state già prendendo ti chiudo no cosa è successo sei morto no abbiamo sbattuto vicenda ma ti prego ma dai ma non muori mai vieni che mamma mia che salvataggio non so come ho fatto eccolo lì no lasciami stare non è vero nella vita sono salvo perché sei uscito da lì cosa ci facevi siete morti entrambi io non io vinti giù guarda io io guarda io non ho parole per descrivere me stesso a volte no fere perché ma cosa sta succedendo perché l'ha preso è morto e manca e 321 siamo attenzione fare messa male sì mamma mia cosa è successo non ci credo eh sì neanche io in realtà ci credo sono salvo salvo calmi ciao no 220 mamma mia che battaglia raga che battaglia bellissimo ultima vita per me io praticamente non ne ho più di vite ma sto ancora giocando non si sta perdendo perché fere va via e fere va via manca stefa in una vita sola teoricamente dai perché perché basta non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo uno uno ho un bel vantaggio devo sfruttarlo no cheat ho vinto no manca una vita hai una vita che te la conta come come da zero ce l'avrai anche tu quindi non ti lamentare ok ti giuro che se perdo anche quando hai zero vite io me ne vado cioè una volta che sei a zero devo devi comunque essere lì per vincere ti pare no vabbè sono davanti è l'unica spiegazione possibile anche perché io ero morto lì e non sapevo dove andare te lo giuro per quello stavo pensando a chiuderti la strada e non ho pensato che io dovevo camminare su una strada mi piace questo gioco gg gg che bella ragazzi qua sembra molto più tubata la faccenda però vabbè bella però aspetta dove siete l'importante è fare fuori step poi di fere c'è un po' meno paura ma perché ogni volta vinci tu nelle cose cioè non è possibile non vieni qua metti la ma quelle fere sono io e sono rosa io abbiamo cambiato colori sono rosa io ma come figurati se non come infatti se fosse la mia scia io sono rosa perché abbiamo cambiato i colori io sono viola no non ce la farò mai ad abituarmi vieni sei coraggio dove siete no c'è la scia di ferra mamma mia che salvataggio sulla tua scia ma l'altro signorino sono qua amico mio vieni quando vuoi ti aspetto per anche per la mia io sono sbocato e t'ho visto ti prego step ti prego io non muoio ma come come non direi ma avevi il salto no sono andato lentissimo ho sentito di premere l'acceleratore e mi sono fermato ma tu ancora 9 vite stai ma ancora non sei morto solo una volta ma solo io sono morto cioè come è possibile oh sono passato come hai fatto e adesso la salto non è vero con quanta convinzione poi guarda come si è maledetto infame sono riuscito per te sono le lame sono riuscito attenzione combattono loro no chi ha usato il coso non è stato io ti sto puntando maledetto non ci credo non potevo girare perché c'era la tua scia maledetta ma poi scusami quello che rallenta il tempo è un perk per tutti si poi infatti non ha molto senso non ha molto senso si non riesco a togliermi i feri da davanti che mi chiude ti prego ma che forse sono riuscito in una maniera stranissima sono riuscito e io quando sono uscito al tunnel mi sono ritrovata la tua scia di fronte l'ho fatto no vabbè ma io non vabbè la devo rivedere questa roba ho fatto una roba incredibile io mi stavo seguendo e sono morto I see you no no non sei morta non sei morta avevo il salto no step mio dio mio dio non ci credo ce l'ho fatta non ci credo mamma mia ragazzi mamma cosa sta succedendo ho fatto delle robe non so neanche io cosa ho fatto è troppo divertente è molto divertente però devi morire perché non mori perché sono morto io ma ti rendi conto di come ti sei salvata ti rendi conto e tu come ti sei salvata eh ma vabbè è più eclatante il tuo salvataggio ma perché mi sarei ero convintissima fossi morto ma anche io aiuto per non fare questa cosa per non fare non ci credo mi sono salvato di nuovo non so quanto no non era una buona idea non era una buona idea cosa sta succedendo lì mi sto vedendo robe ma dai perché e anche fare due di fila tutte e due mi hai recuperato 3-4-4 mamma mia ragazzi perché poi non è molto versatile sta moto qua orca di una barca guarda e mi sono pure uccisa brava te lo meriti che era l'ho provato ma non ha funzionato mio dio mio dio jace bond jace bond ho visto cose assurde stai invennando mi prende il salto è il tuo momento step figliacco si sono proprio l'oro non ci credo devo sperare di saltarti non ti ho saltato ho capito cosa volevi fare ma non sono riuscito a saltarti 2-2 perfetto perfetto era la mia scia non hai saltato anche io prima non ti ho saltato ciao fere no no problem mamma mia ti ho saltato adesso no ragazzi io non ho mai giocato una maledetta così figa fere non ti è più mio dio mio dio mi sono sapato perché c'era il muro c'era il muro c'era il muro un muro c'era ho preso quello un muro mio dio hai solo più una vita hai solo più una vita rischio per step attenzione combattutissima amico mio non mi morire a caso perché ti devo fare fuori io ah pure hai capito io voglio la vittoria così mi devo impegnare così volevi 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 voleva uccidermi tanto lo so che se hai zero vita ti viene la schiatta anche a te eh sì no ti prego no ti prego non lo fare non lo fare ti prego non l'ho preso turbo la fine mette sempre ansia sempre un'ansia pazzesca mamma mia non è ma come non è dai ti prego ma ti non morire ce l'avevi presa tutta la vita non ho parole l'avevi presa ha pagato il gioco fere non hai capito si assolutamente ce l'avevo presa incredibile vai poi contro il muro hai paura? ho paura si però anche io devo combattere un minuto manca un minuto zero vita c'è proprio il massimo dell'ansia proprio che rischio sei salvo? sì nessuno l'ha rischiata mamma mia una showdown proprio loro e lo fa e lo fa proprio loro è stato bellissimo sei spucato è stato bellissimo mamma mia ragazzi non ci credo che partita incredibile che mappa che video e quindi ragazzi si conclude qui la nostra partita su gta la nostra sfida incredibile contro steppe fere ho vinto io tutte e due mi sembra incredibile in realtà non ho idea di come io abbia fa non lo so non mi chiede non lo so iscrivetevi ragazzi al canale anche a quello di steppe fere che lascio in descrizione se volete supportarmi su fortnite con il codice creator come sempre lo trovate qui che lo trovate qui fatelo perché così escono tanti video belli visto che sono supportato ci vediamo come sempre al prossimo video mi do godere queste vittorie ma una volta tanto bella ragazzi ciao